Per essere campione di Fair Play, devi mettere in pratica queste semplici regole. Con le stesse regole, tutti hanno la possibilità di vincere. Rispetto è il valore di tutti, compagni e avversari. Rispetto delle regole degli altri e per se stessi. Diva per chi vuole ma soprattutto per l'uguaglianza. Se il tuo avversario cade, rendigli la mano. Non parare per cercare di vincere tutti i posti. Da una sconfitta spesso si impara più che nell'editorio. Ogni momento è buono per fare sport. Esulta in caso di vittoria, ma senza offendere i tuoi avversari. Lo sport è come una pianta, va coltivata ogni giorno. Questo è il Fair Play, fatto di amicizie e di spirito sportivo, che esprime l'etica dello sport. Dimenticarlo mai. 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 Grazie a tutti.